ciao a tutti allora oggi io e le mie fantastiche mollettine sfogliamo insieme il catalogo numero 14 del libro shake vado fino al 14 novembre 2018 prima cosa che noterete il calendario dell'avvento ovviamente e mi raccomando di comunque prenderlo subito perché sono davvero numeri limitati e quindi va a ruba poi vediamo tra le altre novità i detergenti per la doccia con la promozione quindi crea il tuo set stessa cosa crea il tuo set anche per i trattamenti per il make up quindi primer e fondotinta a scelta il fondotinta sempre crea il tuo set e lo scegliete voi ed è un'ottima promozione poi abbiamo il set per il viso le novità della riche creme e mi sono segnata tutto perché se no mi scordo qualcosa l'edizione limitata del bassa molabbra al carité quello edizione africa quindi un'edizione limitata in promozione e oltretutto si fa anche della beneficenza per i contributi nell'africa quindi sfogliamo subito il catalogo eccoci qui allora vediamo subito la prima pagina ecco ora giriamo con la novità perché sono i detergenti sotto la doccia quindi più di due terzi di olio vegetale 99 per cento di ingredienti di origine naturale l'ecotubo con il 25 per cento di plastica in meno senza parabeni oli minerali coloranti e conservanti quindi perfetti soprattutto per chi fa docce frequenti e comunque il primo che troviamo è questo che è il balsamo sotto la doccia questo è l'idratante oppure l'ultimo cliente ma la novità è che si può creare il set perché possiamo scegliere vediamo se ecco di qui anche le altre pagine ci sono quindi si può scegliere il doccia il detergente per la doccia e poi dopo il trattamento quindi ad esempio il detergente sotto la doccia più il trattamento a corpo da 200 a seta 995 e si può scegliere tra ovviamente tutti questi quindi il latte idratante, il latte nutriente per la pelle molto secca, l'olio sotto la doccia e il detergente più il trattamento ovviamente anche qui ci sono, eccoli qua vediamo ora l'altra novità che è della linea Rich Creme, eccola qui, sono la maschera anti rug benefica che è perfetta per un trattamento urto oppure il trattamento illuminante giorno che è proprio davvero con paticelle micro illuminanti e poi 19,95 eccola qui c'è l'edizione limitata che è davvero bellissima della Rich Creme Grand Soin Regenerant, quindi insiero rigenerante, questa è davvero molto bella come confezione iniziamo con i set, eccola qua il primo, 37,95 comprende la confezione a regalo che poi sono anche quelli che ci sono nel catalogo di Natale con il trattamento giorno, la pochette ed è l'elixir di bellezza, linea antietà, eccola qua, anties global, la pochette e il siero più il trattamento giorno e l'elixir Gioness 37,95, la pochette e il siero doppia azione più il trattamento giorno eccola qua, antirughe luminosità 26,95, pochette, siero e trattamento giorno se no quella rimpolpante, con patetta, quindi pochette, siero e trattamento giorno ovale lifting, stessa cosa, pochette, siero e trattamento giorno, 37,95 altra promozione in questo caso abbiamo il Crea il tuo set con il primer più il fondotinta scelta il primer base illuminante è davvero fantastico, io ve lo dico sempre e comunque dopo possiamo scegliere, sempre il 19,95, di aggiungerci il fondotinta che preferiamo quindi fondotinta a pelle perfetta, quello per peli secche in crema oppure quello per la pelle mista e lucida, il bye bye effetto lucido super matt e anche questo lo sto testando adesso ma è davvero molto valido allora, ultima novità per questo album, anche questa è un'edizione limitata questa è ispirazione afro, due balsamo labbra al karité d'Africa che sono bellissime le, guardate, come si chiama il packaging, il disegno è bellissimo due a tre euro, quindi potete scegliere voi la fantasia che preferite scegliete due tranquillamente e oltretutto parte del ricavato va ai progetti di sviluppo per le donne e le africane quindi facciamo anche del bene e ora veniamo a quello che tutti aspettiamo, il calendario dell'avvento allora, sbrigatevi perché è davvero un'edizione super limitata ma comunque sia, è bellissimo 49,95 ed ha tutte le mentalie per i vari trattamenti quindi trattamenti per i capelli, trattamenti viso, quelli per l'igiene il make up, i profumi, trattamenti corpo quindi davvero si può provare tutti i prodotti questo era tutto l'album allora, abbiamo sfogliato tutto l'album e avete visto che è davvero pieno, pieno di novità come sotto, qui nell'info box, c'è il link per contattarmi per le informazioni e per gli ordini trovate anche, intanto, il link per scaricare questo catalogo in formato PDF così potete tranquillamente sfogliarlo sui vostri dispositivi multimediali e poi trovate, sia nelle schede che nell'info box, anche il link per il catalogo di Natale perché potete fare un ordine cumulativo di tutti e due e non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati con il magico naturale mondo di Brochet